ciao patati wow si vede benissimo guardia wow when does it start and when does it end the shark claudia the shark claudia the shark è che il miglior tour operator delle bahamas claudia coppola si parla di merda di acari perché stai parlando di merda di acari comunque raga si realizza un sogno siamo sul fulmino di forest gump è stato un sogno Grazie a tutti!